salve a tutti e questo video si pone in continuità del video precedente e come abbiamo visto la scienza si interroga sul come mentre la fede si interroga sul perché vi faccio un esempio ammettiamo che una persona presa da un raptus di follia commette un grave reato che dopo questa azione la persona si pente cioè ha un senso di rimorso un senso di colpa cosa succede allora la scienza analizza la situazione prima dell'evento cioè cosa ha fatto scattare la molla quali sono state le cause come si poteva evitare la tragedia mentre la fede analizza invece la situazione dopo l'evento cioè sul perché la persona ha avuto un pentimento ha avuto un senso di colpa cosa o chi le ha toccato il cuore ecco alla conclusione di questo video vi spiegherò la teoria dei due soli ma ora passiamo al tema di oggi i giudei si rivolgono a gesù e le dicono non farci stare sulle spine dici la verità se tu o non sei tu il cristo e gesù risponde io ve l'ho detto e voi non mi credete ma gesù non lo ha detto soltanto con le parole ma lo ha detto anche con le opere ma i giudei possiamo dire oggi le persone lontane da dio non lo hanno creduto allora cari amici e cari amiche sapete perché i lontani non lo hanno creduto perché non fanno parte del greggio di cristo non sono i suoi discepoli e proprio perché non sono discepoli di cristo sono persone diffidenti presuntuose arroganti tenete sempre a mente questa frase le mie pecore nessuno me le strapperà dalle mie mani io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono la voce del pastore e mi seguono questa è una frase che uso come gioccolatoria nessuno può togliermi neanche una pecorella perché è dio in persona che la recupera per me la recupera se si smarrisce e questo è meraviglioso nella mia esperienza ho imparato ad affrontare le durezze della vita momenti che possono durare alcuni attimi alcuni minuti alcuni giorni ma alcune volte queste situazioni possono durare diverso tempo una malattia una incomprensione la mancanza di dialogo tra genitori e figli tra marito e moglie una lite tra amici queste realtà portano tante volte a vivere una vita nelle tenebre di fronte a queste realtà di fronte a queste situazioni cosa dobbiamo fare dobbiamo avere fiducia nel signore molti se la prendono con il signore per le loro sventure ma vi assicuro che non è il signore che si diverte sulla nostra pelle attraverso le sofferenze allora il signore permette tante volte le sofferenze perché diventano il termometro per misurare la nostra temperatura di fede anche san paolo dice e quando sono debole e allora che sono forte perché la fortezza non viene dagli atti di prepotenza o dalle azioni di bullismo ma la fortezza viene dall'umiltà di sopportare di sopportare pazientemente tutti i maltrattamenti subiti la fortezza viene da dio in un salmo si dice le anime dei giusti sono nelle mani di dio nessuno le toglierà agli occhi dei stolti parve che morissero e la loro genia fu ritenuta una sciagura la loro di partita una rovina ma essi sono nella pace questo significa essere nelle mani di dio significa essere protetti dio è sempre con me specialmente nella tribolazione nella difficoltà nello sconforto nell'afflizione nello scoraggiamento anzi è proprio in questi momenti che c'è un surplus di angeli e di anime che mi consolano mi confortano mi fanno sorridere con l'umorismo giocano e scherzano con me per farmi dimenticare la tristezza e questa è una sensazione meravigliosa che sono i cristiani ad antiochia per la prima volta furono chiamati i cristiani possiamo noi dirci realmente cristiani o meglio possiamo chiamare una persona con l'appellativo di cristiano per il suo comportamento vedete cari seguaci chiamare una persona cristiano è un complimento ma molti lo attribuiscono a una offesa perché perché ad antiochia furono chiamati per la prima volta cristiani perché alcuni apostoli si sono fermati là per più di un anno hanno trascorso più di un anno ad antiochia e cosa hanno fatto hanno proclamato gesù cristo erano gli amici di cristo i seguaci di cristo erano cristiani la popolazione antiochina ha riconosciuto gesù nei comportamenti degli apostoli quindi sono stati coerenti alla parola che proclamavano hanno messo in pratica ciò che il signore ha insegnato hanno lavorato hanno sofferto si sono rallegrati questi sono i cristiani ecco perché essere cristiani non significa saper parlare come sto facendo io in questo momento ma significa saper agire operare lavorare nel silenzio e nel nascondimento senza far rumore e senza creare folle di seguaci o come si può dire oggi i follower dovete pensare che ciò che io riesco a fare in una giornata di lavoro è ben poca cosa ma sono attrettanto convinto che quello che io non faccio lo fa il signore per me il cristiano sa arrivare dove non arriva il parroco nelle situazioni drammatiche nascoste tra le persone lontane da dio essere cristiani significa rimboccarsi le maniche e lavorare con impegno con dedizione con amore nella vigna del signore o come dico sempre nel recinto delle pecore concludo esponendo la teoria dei due soli chiaramente questa è solo una teoria quindi prendete la con le pinze perché va interpretata allora per eseguarci ci sono due soli il primo emana luce invisibile agli occhi ma visibile col cuore è la luce che emana dio e questa luce che è l'amore è riflessa anche dalla beata vergine maria da tutti gli angeli da tutti i santi e da tutte quelle anime dei giusti che ogni giorno ci trasmettono questa luce ci trasmettono queste intenzioni buone ci trasmettono di fare il bene ci comunicano di fare il bene e questa luce diventa visibile quando per esempio guardiamo una persona innamorata possiamo vedere nell'innamorato e nei suoi occhi la luce di dio l'amore di dio il secondo sole è la luce visibile la luce di lucifero come sapete lucifero è l'angelo portatore di luce che poi è decaduto cacciato da san michele ma gli angeli non possono perdere mai il loro incarico quindi questa luce che lucifero porta è il sole ciò che si è attribuito al dio sole che per far luce sul mondo deve bruciare le anime e per bruciare le anime deve conquistarle con l'inganno con la seduzione con la tentazione e qui c'è il contrapasso quelle anime che hanno portato oscurità al mondo che hanno operato il male dovranno illuminare il mondo bruciando le loro anime e questo in proporzione al male che hanno fatto sulla terra quindi quando più hanno operato il male tanto più devono illuminare il mondo questo è terribile e questo significa che lucifero ha bisogno di carburante da bruciare per illuminare la terra quindi penso che anche le persone il peccato mortale hanno la loro utilità e tante volte io ho proposto la visione beatifica ho proclamato la salvezza ho parlato a nome di dio per salvare le anime ma vengo sempre insultato ingiuriato deriso allora dico a queste persone volete l'inferno bene allora accomodatevi pure il mio compito è quello di rendere consapevole un'anima alla realtà in cui va incontro e tutto qua io non devo salvare le anime devo solo profetare la parola di dio poi un'anima sceglie o la salvezza o la dannazione questo è un problema suo non certo mio chiaramente questa teoria va interpretata e verificata vi do qualche spunto di riflessione per poter immaginare l'universalità di dio mi basti pensare che ogni stella è un sole e come sapete il sole è lucifero quindi chi crede nelle stelle come per esempio nell'oroscopo crede in lucifero e non in dio e non appartiene al grege di cristo e con questo è tutto è un arrivederci al prossimo video